Allora, com'è la situazione al momento qui in zona e sul Tevere? Tranquilla. Problemi prossimi o comunque tutto risolvito? Tutto tranquillo, state fluendo bene, tranquillamente, ai cittadini da sempre qui. Non ci sono problemi imminenti insomma, ma su Altevere invece qui a Foci e qui sotto? Tutto controllo, bisogna accettare il movimento, stanno controllando tutto il tempo. Comunque tutta la zona è monitorata praticamente? Sì, è tutto monitorato. Voi siete in allerta? Sto funzionando bene. Voi siete in allerta fino a quando? Non abbiamo ancora comunicazione. Perciò perché comunque siete sempre stato in allerta insomma. Vabbè, io vi ringrazio, poi vi verrò a trovare. Via di saponare? Via di saponare. Perfetto, grazie.